Comincia il 2020, ma quante auto elettriche si vendono e si venderanno? Adesso la percentuale è ancora una percentuale minima, intorno all'1% o comunque giù di lì. Però fate conto che nei prossimi anni è previsto un'esplosione di questo tipo di tecnologia, sia ibrida ma anche total electric, proprio perché si va verso, la cosa importante sono anche le strutture, quindi le infrastrutture e anche il Comune di Piacenza si sta strutturando per l'impianto di nuove colonnine e più cresceranno le infrastrutture e più anche i clienti finali saranno comunque invogliati ad andare verso la vettura totalmente elettrica perché è sicuramente il futuro con dei costi chilometrici molto ridotti, ma con la certezza di un impatto zero sull'ambiente, quindi nessuna emissione CO, accesso alle ZTL, parcheggi blu gratuiti, insomma ci sono anche un bollo che non si paga, abbiamo anche una serie di agevolazioni tangibili da un punto di vista anche economico, oltre che, cosa più importante, sull'ambiente che è, anche se devo dire l'auto viene presa ad esempio, ma sappiamo tutti, se non dobbiamo essere così falsi su questo argomento, che l'auto ha comunque un impatto in percentuale minimo sulle emissioni CO2, perché ci sono tanti altri fattori che incidono, come i riscaldamenti, come le caldaie ancora vecchie in molti condomini, però l'auto ormai da anni e soprattutto ora con l'elettrico sta facendo la sua parte alla grande per arrivare ad emissioni quasi a zero. L'auto diesel sono sempre in cima alla classifica delle vendite? Ma allora, diciamo che stanno un po' cambiando, ma questo anche perché il diesel, secondo me erroneamente, è stato oggetto di una campagna denigratoria negli ultimi mesi, quando invece poi bisognerebbe sempre andare a ragionare su quella che è l'emissione CO2, e i diesel attuali di oggi hanno delle emissioni CO2 bassissime, ben più basse anche rispetto al benzina, quindi è calata un po' la vendita, ma il diesel comunque è ancora un carburante che viene scelto regolarmente dai clienti. L'ibrida è troppo cara? No, ovviamente come tutte le tecnologie hanno un delta prezzo rispetto alle vetture standard, però ragionando a 360 gradi, quindi sul risparmio dei consumi, quindi su un costo chilometrico inferiore, e sul risparmio che abbiamo anche a livello di incentivazioni statali che ci sono, cosa importante però voglio dire che questa è fondamentale, le agevolazioni statali ci sono soltanto sulle ibride plug-in, cioè le ibride che hanno una presa di ricarica, tutto ciò che si attacca alla corrente, queste consentono di avere un motore che può andare anche solo in elettrico, in combinato avere meno di 70 grammi di emissione CO2 e quindi poter usufruire di incentivi. Diverso è sul mydhybrid, cioè l'ibrido medio, quindi sull'ibrido il futuro è il plug-in, hybrid plug-in.